Maledizione Abbiamo Grega stop con la Comet Bello Cioè non so cosa faccia contro Fiora ma Va bene Va bene Cioè è presente verrà Permastunnato tutte le volte che farà la E Va bene così Poi Graves Luxfer Strike Troppo corrette le rune Da queste parti Finché Velcroz non è support A me va bene Abbiamo trash con L'aftershock Va bene Tutti vogliono un pezzo di fieri Dono di streamer È finito al barretto Sai in giova che si possono Scaricare Dalle tasse i sub su twitch Quelli che tu fai? Quelli che io faccio Sì Se io mi abbono un canale Mi arriva la fattura di twitch Dal commercialista Dice Cazzo ne sa L'agenzia delle entrate per cos'è Una fattura su twitch Lavoro su twitch Una fattura su twitch È scritto che ho pagato 5 euro Hai pagato 5 euro a uno streamer C'è scritto È un servizio Servizio di abbonamento Che volete che ne sappia L'agenzia delle entrate In ogni caso è legit Perché tu lo puoi fare anche per Public relation Quelle cose lì Cioè ci conosciamo È come invitarlo a fare un aperitivo Puoi pagare Un aperitivo di lavoro E la cosa brutta È che per le orazioni Invece non è possibile Perché i soldi passano Da un servizio esterno Stream elements O stream labs E non ti arriva nessuna fattura Lì Eh diciamo che poi La gente potrebbe cominciare A donare 100.000 euro A uno Per scaricarli dalle tasse Non pagarci tasse Farseli ridare Cose del genere Magari potrebbe uscire Qualcosa di un po' troppo losco Va bene Non sto dando consigli finanziari No infatti Penso che qualcuno Ci abbia già provato Io ogni tanto vedo certi canali Eh sì Ah sì Piccolini Con 5.000 sub donate Random E dico Ma chissà Magari Chissà Stanno riciclando un po' di soldini Ma magari no Sono italiani ci sta No no Sicuramente stranieri Magari sono ragazze Semplicemente Oh preso Eh no Le ragazze le giustifichi Perché magari c'è tanta gente Che Vuole chiacchierarci Oh Fieri che spawn Ciao Perfetto Ma Ah ma è in squadra con noi Eh sì Attenzione Attenzione Il check Check tattico Di nuovo Sempre lì Sempre lì Come c'è il trash Qui Ma anche se fosse Vuole una mano L'amico Baffone Ma ha perso della vita Maledizione Prenditi Statta Speed Direi che può bastare Come Che Guarda pure Guarda Pure lo scudo dell'Eri Si è preso Mamma mia Due volte Si Accirante No ma Jarvan support Adesso vedrei Che faville Che fa Eh il ramo vero Decaumenta gli scudi Se prendi l'attack speed Ti arriva lo scudo È perché sei lontano Non so quanto sia Il range Dello standard Una volta piazzato Si è preso una Q per uno Tic Vai se ti avvicini un po' Appena mi torna l'Eri Guarda Preso Ecco qua Tieni lo scudo Hai visto che bello È bellissimo Jarvan support Per sta cosa Ma se stiamo a monopixel Continua ad Arrivarmi A spam Cioè Se stiamo uno sopra l'altro L'Eri L'Eri Beh c'è un cooldown Appena ti arriva addosso Ok ci saranno Guarda lì che fastidio Vedi sta un pochino su Vedi Puoi arrivare da me E adesso non mi torna Finché c'è lo scudo Non torna da me Vedi C'è se Mancati Ma come stanno belli lontani Guarda lì già che pochino è arrivato Ma stai stai invadendo il nostro gruba Finché è morta Ho messo un paio di ping È così L'ho tirato su un altro Die Scrivono anche una cometa Bene Chi è morto? Ah ha fatto la kill su Mastery Buono La Jinx va back Se non va perde tutto Pazzacchete Che meraviglia Vai frizzagliela Era forse a tirare una pushatona Andare back Però magari ci sta facendo la finta Ah il carretto Sì Sì Allora possiamo pushare questa forse No Col carretto non si riesce a pushare No Aspetta Pushala piano Poi li mandiamo alla big wave Andiamo back Rizzala un attimo Tanto io lo infastidisco il ragazzo Dobbiamo mettere una ward Vabbè ma tanto Mastery voglio dire Non è che faccia più dei grand gank Sacchete Porca troverà che poca Ma Spoon gioca solo Miss Fortune Beh però A sua discolpa posso dire che Gliel'ho proposta io Perché con Jarvan sai Vado a fare il gabbio So che voi siete abituati a uno streamer Che gioca ogni volta un champion diverso Ma che sono le mie ranc Io devo impegnarmi Ragazzi dovete considerare che la maggior parte delle persone Non gioca a 80 campioni come me È da tenere in considerazione Io sono uno che si stufa abbastanza presto Infatti ne ho provati proprio tanti pure io Però Ci sono quelli che ho imparato un po' meglio Ecco Vabbè certo anch'io Almeno è bravo Addirittura Pure i complimenti ti fanno Non lo so Non lo so Vediamo un po' di attack speed Al nostro jungler A buon rendere Si è preso due scudi addirittura Eh due scudi Sì perché quando tu danneggi Alla fine dare il scudo Danneggiare è la stessa cosa Quindi Essendo che io non danneggio un campione Leri va direttamente su di lui per lo scudo Poi torna da me E lì rida lo scudo Fai il mandato imperiale? Potrebbe essere un'idea Ma sicuramente potrebbe andare anche di Ludens Maledizione Sicuramente il mandate è molto Molto supportivo Effettivamente potrebbe essere Una bella idea Secondo me A fine game Fai più danni con mandate Che di Ludens Però Ma posso giocarlo Però rovineresti magari Eh qua arriva Mastery sicuro Ma Ok non Faccio dar un'auto in più Vabbè bene Purtroppo abbiamo Cicciobello qua dietro Che Poco simpatico C'è anche Lux però No Nope Guarda Lux Se mi lascio di arrivo No Eh va bene Fa bene pushare qua Sì hai ragione Fa bene pushare Dove andare mi dio A shivare quella No no Appena prendo il 6 Peccato Forse Cioè per poco Facciamo Un disastro Un disastro Purtroppo lì Non so che è successo Io ho fatto la combo Ma mi è arrivato Un Instagram Grab Non ho ben capito Sì dai vado Di mandate Così per una volta Faccio qualcosa di nuovo Facciamo qualcosina Di nuovo qua Cosa trash Le Pomba letality Sì 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 Massacriamo di ulti Così Oh dai Poi costa poco Ci sta Mid ovviamente Lo gioco con Ludens Jarvan Però Support Ah lo giochi anche mid E io lo gioco solo Mid Support è una novità Mettiamola così Cioè lo gioco poco Sapp Io ho il 6 comunque Aspettiamo anche il tuo Secondo me Eccolo Solo stare dietro Al grab di trash Facciamo così Iniziamo a poccarli sotto torre Li mettiamo belli in range Ok Allora Ok Vai mena mena Benissimo dai È andato molto bene Questo 2x1 Dove mi ero ficcato qua è andato più meglio del previsto Sì Madonna che viaggio si è fatto Io non ho chiuso ancora l'item Ho anche preso obiettivo top Non può killarmi vero Però così Non avevo la Q Mannaggia Non devo far mittare da quella W Ma è 3-0 Ma come Ma in che universo Ha giocato 6 player Porca puttana Buonasera Come va? Eh peccato Perché c'ho l'ignite Avesse avuto la Q lì Faccio la combo La killavo Vabbè Non c'ha nemmeno la taglia Maledizione Niente ward Niente ward Ci sono su trash Eccola la ward Attacca attacca Oh nice Ho l'ultim 5 Tu ce l'hai? Sì Il qua non è guardato Non è guardato Esatto Mia cugina si strofinirà I miei occhiali Sotto le sue ascelle Salve Prendiamo a pochiamo un po' D'altro è ancora un cooldown Abbastanza alto E ti piace più il dolce o il salato? Un po' con il dolce Perché il dolce è troppo dolce Buonasesso Vai Fievi Caprilli Ma passa da davanti Lux A slow Nice Qua No Eh ci flash Sotto la master No è top Ok GG Sfondati porca puttana Andrei back No mi serve una plate Prendiamo questa Prendiamo questa Se prendo questa C'ho il mandate Sloggiamo immediatamente Nell'altro bash Che qua Non si sa mai Porta I miei occhiali Sotto le sue ascelle Via 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 Ok Ecco qua Precisi Precisi per il mandate Fa troppo strano Fa troppo strano Vedere sto Eric Girare di continuo Con Jarvan Cioè È proprio Particolare Grazie Abbiamo un po' di sub Grazie Eh vanno il drake Questi Eh Sì Inxpire ha pure vision Credo Io non so se maxare la W O la Q secondaria Sai W slow aumenta lo scudo Però No faccio la combi più spesso Sì Vabbè Vabbè è buono Non si sono fidati Avete di nuovo Aspetta E lei non ha flash Hai mai guardato Sì Me l'ha tirata anche prima Ma l'hanno rimessa Perché L'ha avuto Olta Ragazzi sono al drake Ok Hanno paura Bene bene Ce la stanchiamo Minti A gargastop 3-0 Ma che cazzo Cazzato C'ha 30 milioni In meno Però Va bene Forse potevo ultarla Ci sei? Vai Eh vabbè Ma qua c'è sempre la fiesta Massima proprio Ma qua c'è sempre la fiesta Io non ho capito Ma che Cioè Abbiamo le attenzioni Vabbè ma Io sto prendendo Molte più risorse di lei Ah sì Per carità Abbiamo fatto un altro 2x2 In 2v4 Però porca puttana Cioè Una nintendo switch Servirebbe un po' di pace Da queste parti Un bel jarvan ap Il mio preferito Minore 3 Buona fortuna Grazie Grazie Dark Sword Per i sette mesi Bentornato Carissimo No ma anche di minion Cioè noi siamo messi proprio bene Però Una rottura di cazzo Perché lì Sarebbe stato 2x0 Oh Drago Drago Ah no Ok Gli hanno scopato Vabbè c'era solo Trash Che girava come un coglione Da va Molto bene Ulti in 40 Ero ulti in 10 E ti piace più il dolce o il salato? Chi c'è qui? Fuori Il dolce Ma è che il dolce è troppo dolce Buonasera Signor Fieric Faccia morire Ah no Non more niente Non c'è il carretto Andiamo avanti Mastery top Ottimo Ah si è fatto l'herald Lo trombano Sì Meno male Sacchete Allora Non Mamma Mamma mia Non fossi stato stunnato In quel momento La potevo ultare Vabbè Mi hanno fatto una cagata Loro Mastery è ancora morto Maledizione Il guardian Va bene Va bene Stiamo tirando Un discreto poke Sì 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 Vai Vai con la torre Oddio No 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 Aspetta Aspetta Eh no Va bene Non rischiamocela Io ho Muramana Qui Muramana Oddio No Maramune Ah c'è Sì Ah non si può Se giocasse Su Miss Fortune Vabbè che sta bene Su quasi tutti Quelli Sì ah perché Consola tantissimo Mara Perfetto Grazie Generale Sì poi Ragazzi C'è La Grazie 15 Ma È caduto Tutto Ciao Grazie bro Andiamo back E grazie anche All'obotomizzato Bentornato Cosa fa il mitico Allora Vabbè Le stats Sono le seguenti Potete Benissimo Legge L'abilità Che slowano Immobilizzano I campioni Fanno dei bonus Dei danni bonus E E metto Marchio In quei Quattro Per quattro Secondi E Se un altro Alleato Danneggia Il nemico Marchiato Fa ancora danni Primaveramente L'applico Sì vabbè Di combo Di W Di ultimo Non è tantissimo Purtroppo Non si applica Sulla E Ah cazzo Mi sono sbagliato Perché sono Veduto Farlo su Ash Guarda Allora L'ultimo pixel Lo prendiamo Ok Gran combo Questa Eh puoi farti Il relay Così È vero È vero Ci sta Diciamo Non è proprio Vabbè No Ci può stare Mi piace Vabbè Contenta tu Tesoro Una doppia V Che non ho usato Sei volte Ma Ma è 06 Enesimo account Comprato Rivederò Solo tu trovi Sta gente Cioè Ne ho perse Due oggi Non lo so A me Sembra ancora Così facile Giocare in gold Sì Dici che è la red Che dice Ma questo qua Arriva dall'iron Dai facciamolo Vincere un pochino Grazie Nick Per il prime Benvenuto Io andrei Bot a prendere Quella bellissima Torre 600 gold C'era Elkoz Ok Qua abbiamo pulito Lugardiano Oh Ah ho capito Spicy Allora c'è il drago Adesso Tanto che raga Si sta rubando Tutta la giungla E Chi c'è lì Voleva andare Backl Ragazzo Io ho ulti 9 Bravissimo Ottimo Oh mid Ha il baron Ma scusa Non è meglio Andare col drago Adesso Cioè Io sto andando Da mastery Comunque Dai faccio la torre Arriva Anche Jinx Sa quanto fare No Ok Ha flashato Vai Gragas Porca Puttana Arrivo Bro Ma Fiora Cosa Do più Per slow Guardare Gragas Che cazzo Zacchete Ma come Non l'ho presa io Vabbè Drago Drago Ah baron Vabbè ci stava Bel punto interrogativo In chat hall Che non fa mai male Comunque veramente strong Jarvan support Devo dire Molto soddisfatto Vabbè è un cc Bello importante Molto soddisfatto Andiamo di rely Così Così slow Quando Quando tiro lei Applico il mandate Vediamo C'è un tp in top lane Vabbè ma sta fiore qua Ha comprato chiaramente L'account Cioè È inguardabile È uno di quelli Che dici Ma questo qua In gold Ci è arrivato Comprando l'account Bello bello Però Jarvan Fatto così Una control Qui Ma come Siete pazzi Andiamo ancora a cambiare Il trinket Io ho tre item Penso che Qualsiasi cosa C'è arriva gente Buonasera dottore Ci sono in live Due lollari scarsi Come pochi Un certo cap Se iancos Cinque decimi Kili in tutto il game Ora capisco Perché anche loro Prendono esempio Dal supremo Sei sempre il numero uno Grazie Andrea Dei beats Opa la Neanche l'assist Forse Non dovevo ultare Eh vabbè dai Ma un bel axiom Ma sai che Con l'axiom arc Se fai tipo Double kill Triple kill Di ulti Praticamente Ce l'hai Ulti due nuove Con Pyke Ti si resetta Ulti Ultare due volte Di fila Ma No Aerominion bloccato Tra la tua ulti E i minion Eh vabbè Un'animazione un po' Particolare Sta E No Non potrete Avermi Oh Let's go Eh let's go Vabbè ma siamo troppo bravi Ragazzi Maestria Incredibile Utilizzare certi Campioni Molto bene Molto bene Molto bene Vediamo un po' Il grafico dei danni Cosa ci racconta Di questo game Cosa ci narra Una bella capsula Che andremo a spacchettare Hai fatto più danni di me What the fuck Gold 3 Let's go Beh Beh Un discreto support Gold 3 29 Tu sai Gold 3 Sono appena arrivato Quindi Boh Andre Chaos Official Gold 3 poco Sicuramente 145